Buonasera, abbiamo due monete, un penny e un quarto di dollaro, un mezzo dollaro. Prendiamo le nostre due monete e ne appoggiamo una di fianco all'altra, in questa maniera, ben visibili e ben divisi, ok? Una di fianco all'altra. Ci appoggiamo sopra un bicchiere, un normalissimo bicchiere di vetro, e proviamo a creare la magia, ovvero quello che è successo è che il nostro penny è passato sopra il bicchiere. Sotto il bicchiere noi abbiamo solamente il nostro quarto di dollaro, il passaggio attraverso il bicchiere di vetro, scotch e soda.